Ehi! OK's back! Back again! Sta per iniziare di nuovo la stagione dell'OK e io sono felicissima! Il 15 settembre ci sarà la prima partita, ci sarà un'unica partita nel calendario e poi inizieranno adesso ce n'è tipo 5 o 6 al giorno, non mi ricordo quante sono. Comunque sono stanca di essere in astinenza da partite, infatti oggi mi sono riguardata la finale della Stanley Cup perché non ce la facevo e questa settimana mi sono sfondata di libri con giocatori di OK. Non sono riuscita a leggere tutti quelli che volevo leggere per parlarvene in questo video ma comunque ne ho un pochettino quindi iniziamo. Anche in previsione della Ridaton che è tutta quanta ispirata e promuove diciamo la lettura di libri con l'OK come sport predominante, sarà dal 2 all'8 di ottobre se non sbaglio. Tutte le informazioni di due booktuber che hanno inventato, cioè che hanno creato questa Ridaton sono sotto, uno è Alex, l'altro invece è Becca e io non li conoscevo prima che venissi a conoscenza di questa Ridaton quindi sono contenta di aver scoperto altre due persone. Per questa Ridaton non so ancora se ci saranno delle challenge, non so ancora se devi leggere un tot di libri o se devi leggere soltanto libri che hanno a che fare con l'OK, non so ancora niente. Quando saprò qualcosa metterò nell'info box o su Twitter o qualsiasi altra cosa. Allora il primo di cui vi parlo si chiama Pack Me Secretly di Odette Stone ed è il primo in una serie, io ero convinta che fosse l'unico uscito ma a quanto pare da quando l'ho letto io sono usciti altri libri quindi devo assolutamente riprendere a leggere. Questa storia che dalle premesse mi faceva solo ridere poi l'ho letto e mi sono innamorata e ho riso ad alta voce tanto 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 perché è ridicola ma ne vale la pena. Allora Max è il nostro protagonista maschile che dopo uno scandalo viene venduto e deve trasferirsi a Vancouver. Nel viaggio verso Vancouver incontra questa tipa molto figa all'aeroporto e lui la nota e dice mmm figa e lei nota lui e dice mmm figo salgono sull'aereo. Loro sono stati vicini ovviamente, l'aereo precipita. Ovviamente tutti sopravvivono a questo precipitare dell'aereo, vengono legati da questa tragedia e passano questa pseudo notte insieme e poi si salutano ognuno per la sua strada. Se non fosse che il giorno dopo lui è al primo allenamento con la nuova squadra e lei ha il suo nuovo lavoro e il nuovo lavoro di lei è quello di essere una capo manager diciamo della squadra dove sta giocando Max. Questo è uno di quei libri dello stile che piacciono a me perché ci sono anche delle partite di ok che vengono raccontate nella pagina ok ed è la cosa che piace a me. Mi piace che lo sport ci sia e non sia soltanto una cosa di ah sì lui barra lei gioca a questo sport, te lo dico a pagina 1 e poi non te lo dirò mai più. Altro libro che vi voglio consigliare è Parental Guidance di Avery Flynn. Anche questo fa parte di una serie, io ho letto solo il primo per ora. Il secondo libro si chiama Daddy Dilemma. L'Emma potrebbe essere molto figo. Sono passati dei giorni, me lo sono già dimenticato. Leggo troppe cose, contemporaneamente non posso ricordarmi tutti i nomi ok? Poi la mia memoria fa schifo per i nomi ma vabbè. Quella è un'altra storia. Lei è scritto nella Sinossi che si chiama Zara. Lui è di nuovo un giocatore di hockey che ha avuto degli scandali. Non è il capitano ma vuole diventare l'assistente al capitano che è insieme a un gruppo della squadra, insieme ad altri giocatori nuovi però della squadra. Questi giocatori nuovi stanno sparando merda sulle ragazze con cui sono stati e questa cosa finisce sui giornali. La madre, che è anche il suo agente se non ricordo male, decide che la cosa migliore da fare è quella di iscriverlo a quest'app. I genitori iscrivono i figli in questa applicazione per trovare degli appuntamenti, cioè trovare l'anima gemella diciamo e devono uscire cinque volte con questa persona che i loro genitori decidono. Comunque entrambi i nostri protagonisti non vogliono far parte di questa cosa ma dicono almeno per tot di mesi mi smettono di rompere le scatole e io posso essere tranquillo. Quindi i due iniziano a vedersi con queste regole di base che dicono questa cosa non diventerà una relazione, non faremo la mala. Altre cose di questo tipo che non mi ricordo. È molto molto interessante. Poi ho letto Offside di Sawyer Bennett ed è la storia di due tizzi. Lui si chiama Ryan e lei si chiama Danny. Allora se vi è piaciuto The Deal di L. Kennedy questa è la stessa storia ma più leggera. Il dramma c'è comunque ma è più lieve. Quindi se non siete riusciti a leggere The Deal perché la protagonista è stata stuprata questo è una buona alternativa perché la storia è praticamente la stessa. Poi ci sono altri due libri che ho iniziato ma non ho ancora finito ma che sicuramente saranno i migliori di quelli che vi sto consigliando. A parte Pack Me Secretly perché quello è top notch. Il primo che ho iniziato ma non ho ancora finito è Breaking Away di Tony Aleo che è la storia di questo capitano di una squadra di hockey che tutto andava bene nella sua vita finché la sorella non è morta. E lui è diventato il tutore della figlia sedicenne della sorella. Scopre che l'unico modo per aiutarla a superare la perdita e il lutto è questa scuola di danza. Quindi quando lei balla è terapeutico per lei. Lui ha provato a mandarla da uno psicologo, ha provato a fare tutto quello che poteva fare ma l'unica cosa che funziona è il ballo. Quindi ovviamente la porta a ballare, no? E lì incontra l'insegnante di ballo e l'insegnante di ballo è molto figa. I due passano una notte insieme. Non vi dico nient'altro perché dall'inizio della storia è del punto in cui sono arrivata adesso. Quindi non potrei nemmeno farvi spoiler perché non lo so. Per il momento mi sta piacendo. L'ho iniziato perché ho un altro libro di Tony Aleo che si chiama Border by Love nella mia TBR della Contemporary Aton. e volevo vedere un pochettino qual era lo stile di scrittura per vedere se mi sarebbe piaciuto oppure no e per decidere se effettivamente lasciare quello nella mia TBR o se sceglierne un altro in caso lei scrivesse a merda, no? Invece per il momento sembra interessante quindi vi farò sapere. Ultimo libro di cui vi parlo è Goalie Interference di Evan Gale e Piper Vaughn che è uno dei libri che mi è stato dato su NetGalley. Allora, Emmett Armstrong è il primo che conosciamo nella storia ed è questo portiere che ha giocato e ha appena vinto la coppa della AHL che è la league prima dell'NHL. È stato venduto a una squadra dell'NHL che si chiama Venon qualcosa. Muoio. Viene venduto a questa squadra, non ho ben capito se era il suo sogno fa parte di questa squadra o che cosa, ma non importa. Lui finalmente sta giocando nel NHL quindi è felice. Arriva lì, il vecchio portiere è stato mandato via e il secondo portiere, Ryu, credeva di essere quello che sarebbe stato scelto come principale, cioè come portiere principale per la nuova stagione. Quando arriva Emmett, vengono chiamati in ufficio e gli viene detto oh, non abbiamo ancora scelto, vediamo come ve la giocate prima dell'inizio della stagione e nei primi mesi della stagione sceglieremo chi è il portiere principale. I due sono ovviamente attratti l'uno dall'altro. Non è ancora successo niente, né ho ancora visto delle partite di OK, quindi non so bene come sarà la situazione. Avrò letto l'8%, cioè i primi tre capitoli forse, quindi non so ancora niente, ma mi ispira veramente tanto e sono contenta di star leggendo anche un libro mail mail. A quanto pare questo qui è il secondo di una serie, però non sembra necessario aver letto il primo, quindi io lo leggerò e poi vi farò sapere. Fatemi sapere se anche voi avete uno sport di cui leggete libri, cioè se, che ne so, football o calcio o qualsiasi altro, fatemi sapere se anche voi siete fissati con uno sport e ne leggete i libri, ok? Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!